Ricordiamo tutti quando un anno fa successe il dramma presso la città di Castelletto di Montalvio dove andò a fuoco il teatro di Santa Prassete, quelle immagini insomma le ricordiamo tutti con molto dolore fortunatamente una buona notizia è arrivata che in questi giorni il teatro è stato rimesso a nuovo dopo un anno di restaurazione e finalmente proprio oggi, proprio questa sera, fino a poco tempo fa, è andata in scena la prima rappresentazione teatrale della nuova veste di questo meraviglioso teatro storico nella città di Castelletto di Montalvio quindi dopo tanta attesa si è tornato ad applaudire, si è tornato a sedere sulle sedie di questo storico teatro e noi ci colleghiamo con Michele Rivanusvella che è proprio lì nel dietro le quinte del teatro di Castelletto di Montalvio ossia il teatro di Santa Prassete, Michele Rivanusvella Sì, Lundini, ciao a tutto lo studio, noi siamo qua a Castelletto di Montalvio presso il teatro di Santa Prassete dove è appena andato in scena il primo spettacolo dopo il restauro del teatro che è stato, come già hai detto te, vittima di un grosso incendio l'anno scorso sono qui con tutta la compagnia del Tulipano la compagnia del Tulipano, saranno emozionatissimi di aver finalmente ricominciato a fare teatro dopo tutta questa attesa sono lì con te e allora parliamo con loro Sì, lascia che io ti presenti la compagnia del Tulipano sono qui con me, qui c'è la regista, ciao, lei è Guia? Sì, Guia Scognamiglio Ciao Guia Buonasera a tutti, grazie dell'interessamento Grazie a te Perché per noi è molto importante, è un anno che aspettiamo questo momento e la compagnia è emozionatissima è stato un grande successo perché il pubblico ha risposto con affetto la città di Castelletto ci ha accolto con più di 250 persone stasera e quindi siamo molto fieri di questo successo Beh, lo immagino, sono finalmente una storia che si conclude bene finalmente dopo tanta attesa il teatro torna a vivere Assolutamente, assolutamente oltre alla regista ci sono gli attori, gli attori dello spettacolo abbiamo Max che è il protagonista, giusto? Andiamo a conoscere gli attori, vieni, vieni Saranno emozionatissimi, ovviamente Vieni qua Allora, Max ha interpretato Don Mimì che è il protagonista che fu interpretato dal grandissimo Edoardo De Filippo Hai sentito la responsabilità? Com'è stato interpretare questo personaggio? Sì, è molto interessante, è bello è molto accogliente di questo spettacolo Scusa un attimo Questa ragazza è bellissima Scusa un attimo Max, scusa un attimo Michele ma io non avevo capito che Max è un grande io volevo fare un applauso a Max io non avevo capito che stavamo parlando di un ragazzo così simpatico ma quanto è simpatico Max? Sì, è una persona simpatica È simpaticissimo Scusa l'interruzione Max Dicevi come è stato fare questo spettacolo Fagli le coccole Per me il spettacolo è molto bellissimo è interessante, è emozionante No vabbè, io mi viene da proprio una tenerezza una dolcezza cioè io se fossi in te gli farei un sacco di coccole qua ti stiamo invidiando tutti ma perché non lo riempi di coccole? Sì, un attimo Lundini no, non gli posso fare i coccole c'è a 36, quanti anni c'hai? 37 Ma è un bambinone, ma fa riempilo di coccole va bene, senti grazie Max, un attimo abbiamo altri attori comunque oltre a Max c'è Ludovica che interpretava Filomena Marturano adesso parliamo con Ludovica Sì Ciao Maxino forse è la protagonista possiamo dire la protagonista Ludovica, com'è stato interpretare il ruolo della grandissima Filomena? È stato molto piacere No vabbè, grande, grande Ludovica, veramente se io faccio questo lavoro è anche per regalare un sorriso a persone come te dalle un bacio Michele Michele, dalle un bacio da parte nostra cosa aspetti, Ludovica è dolcissima ti prego Michele fallo per noi stiamo infazzendo un attimo non la posso baciare perché non la conosco quindi ma come no ma è dolcissima dicevamo perdonami Ludovica quindi com'è stata l'emozione di tornare al teatro dopo un anno in cui questo teatro era chiuso? di tornare molto bello e divertente no vabbè ragazzi ma gli vogliamo fare un applauso a questa ragazza perché è dolcissima veramente Michele baciala ti prego un attimo sì ho capito ho capito ne parliamo dopo grazie Ludovica comunque ciao Ludovichina questo spettacolo che è andata sì c'è la nostra regista sì buonasera scusate una domanda mi chiedo come mai abbiano tutto questo peso gli attori mentre sappiamo che hanno lavorato tantissime maestranze a questo spettacolo cinografi tecnici anche anche registi non capisco come mai tutto questo ma signorina io mi complimento con gli attori ma cerchi di capire che sono comunque attori particolari è una cosa diversa sono sono non è per dire questa cosa no diversa in quel senso Maxino io dicevo diverse che voi siete normali voi maestranze non chiamare normali le maestranze mi sembra un po' riduttivo per il lavoro che fanno tutto il giorno per il teatro no Michele normali nel senso separa al pari degli attori al pari degli attori ovvio signorina cerchi di capire è vero è vero comunque guarda facciamo contenti tutti perché abbiamo Giacomo che è lo scenografo di questo spettacolo ecco parliamo con lo scenografo Giacomo è giovanissimo tra l'altro è una maestranza così ci sono anche le nostre maestranze vieni Giacomo no lo scenografo allora Giacomo ha 26 anni è molto giovane per essere un gran cosa? gran gli puoi chiedere di togliere gli occhiali a Giacomo un attimo dici se ti togli gli occhiali non so perché devo capire una cosa grande Giacomo gli facciamo un applauso a questo ragazzo veramente gli facciamo un applauso no